Bene ragazzi riparto, vi avviso che è una schifezza abominabile sull'iPad mini, comincia così, logo bassissima definizione, chissà perché, poi vedete Mimosa compare qua, poi il bottone qua tagliato, va bene, lei ha totalmente sballato dei bottoni, dei mood, va bene share, su Twitter come sempre va, anche se la frase non è giusta, l'avevo chiesto di aggiungere il link Alessandro, poi su Facebook come sempre non funziona, non mi funziona più da mesi la possibilità di postare su Facebook, va bene, arriva qua, ci mette, ci mette, questo ok, e ripartiamo, chissà perché, ripartiamo, e va bene, di nuovo Mimosa che compare qua, va bene, andiamo nella gallery, ci mette, uno, due, tre, quattro, cinque, ok, dunque l'entino, vedete che la reazione al touch, non è, ah, bisogna andare sul lato, ma questo, come si fa a capire, quindi sbagliato secondo me in termini di ergonomia, ci vuole una freccia qua, poi, va bene, sì, francamente ci vuole una freccia qua, poi, non c'è feedback, avevamo detto che lo mettevamo, dov'è, va bene, zabaletta almeno va bene, torniamo, alla gallery, e eliminiamo sto qua, partiamo, non ha trovato la bocca, va bene, la foto non era di buona definizione, sì, si torna in gallery, va bene, eliminiamo lui, delete, anche se i bottoni sballati, però, manage moody, è andato via, rimane un buco, non mi sembra il caso, l'ha detto questo, si sbaglia di nuovo, dio bono, ale, cazzo di merda questo, va bene, boh, io non so, si perde in questa gallery, togliamo lui, vai, totalmente sballato, guarda, poi ci sono due facci di questo qua, poi si va qua, e si torna, e forse lì sì, ci sarà un refresh della gallery, no, invece no, non c'è tre volte, madonna, tre volte, prima c'era solo due volte, guarda, bucato, guarda gente, è una schifezza, non c'è tre volte, no, so, non c'è, guarda,